Musica Io vorrei ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale per questa bella iniziativa fatta dopo un bel poco di anni. Ringrazio il sindaco Leonardo Cirianni, l'amministrazione comunale tutta l'ASD Garibaldina, il presidente Chiodo e vorrei ringraziare in particolar modo Giovanni Paola che ha voluto fortemente questa manifestazione. Mi fa piacere aver aggruppato i miei ex compagni di squadra, dai vari Capitan Guzzo, Elia, Cavalieri, ringrazio tutti quanti perché mi ha fatto piacere, li ringrazio davvero di cuore. Ringrazio Mister Viciglia per aver aggruppato la squadra della Garibaldina, l'Under 18 tutta ringrazio tutto il paese che ha voluto che questa tribuna sia stata intitolata a mio padre. Grazie di tutto.